PILA PUL, PILA PUL, PIPI PILA PUL E' arrivato uno dei momenti più attesi di questa puntata o comunque del nostro programma, vero Santino? Confermo anche perché la scenografia conferma. Parla da sé. Di cosa parleremo mai? Di vini? Ah, ok. No, parliamo adesso di vini e che vini mi viene proprio da dire. Lo facciamo con Vincenzo Verrastro che è il direttore del consorzio Vini Doc Gioia del Colle. Benvenuto. Grazie, buonasera. Bene, allora devi sapere Santino che il consorzio, pur essendo nato soltanto nel 2000, quindi una ventina di anni fa, ha però al suo attivo, pensa un po', 76 soci, 25 cantine, quindi sono dei numeri molto alti, molto importanti, è vero? Sì, è frutto appunto del fatto che esistiamo da vent'anni, perché all'inizio non eravamo così tanti, eravamo una quindicina, anzi in realtà la scelta di formare un consorzio, pur essendo la doc nata nell'87 e avendo fondato il consorzio nel 2000, dato al fatto che la doc era a rischio di sparizione. Siamo partiti in 15 e poi piano piano abbiamo cominciato a fare un lavoro sul territorio proprio di reclutamento e di convincimento delle persone, perché dovevamo passare dalla fase in cui vendavamo soltanto l'uva al miglior afferente a mantenere l'uva sul territorio trasformandola in vino. E quindi insomma il consorzio ha raggiunto questi numeri, tra l'altro prima mi raccontava di quella che è stata la prima vendemmia risalente addirittura al 1800. Sì, noi abbiamo anche lavorato sulla parte storica, quindi abbiamo definitivamente compreso e documentato che il Primitivo, che è il nostro vitigno principale, è stato selezionato e caratterizzato qui, a Gioia del Colle, a tre chilometri proprio da questo posto, in una contrata che si chiama Liponti, da un prete, dall'abate, primicerio della chiesa madre di Gioia del Colle, che è a 500 metri da qua, e che identificò nella fine del 1700 alcune ceppi, perché era pieno di vigneti anche all'epoca, però erano, si dice tecnicamente, una famiglia policlonale, cioè provenivano da tutte le parti. In mezzo a questi c'era chi fioriva in maniera molto tardiva rispetto agli altri, ma chi maturava prima. Per cui, essendo l'unico che aveva cultura agronomica dato il periodo, lo definì proprio primativus, cioè colui che matura prima. Capito, Santino? Io devo dire una cosa, è una bellissima soddisfazione passare dalla vendita, come ho detto prima, a poi avere la proprietà, scusatemi i termini, proprio del vito, è il nostro. Però una domanda la devo fare, perché noi artisti giriamo, e molte volte ti ritrovi seduto al ristorante e chiedi il vino della, tra virgolette, casa. A Gioia del Colle, quando chiedi il vino, perché a me mi è capitato ma non lo devo dire, e dico, sono a Gioia il Primitivo, ma poi bevi il Primitivo di Gioia o bevi il Primitivo? Nel caso specifico, il Primitivo poi, proseguendo nella storia per darti una risposta, a frutto di quello che è la tradizione anche della Puglia, si è spostato nella zona sud della Puglia per un matrimonio. E' una contessa del territorio, portò in dote a uno dei padri fondatori, diciamo così, della produzione nella zona di Manduria, proprio dei ceppi di Primitivo, che erano quelli originari della zona di cui parlavo prima. Per cui il Primitivo è diventato un patrimonio non soltanto locale, ma è diventato un patrimonio regionale, ma ha avuto un'espansione enorme nell'ambito proprio della zona, diciamo, ionico-salentina. Per cui i numeri sono molto differenti. Noi siamo comunque una piccola denominazione, nonostante i soci che abbiamo, rispetto all'altra denominazione siamo molto piccoli. Quanto è importante però sensibilizzare in questo momento, perché stiamo per ripartire, noi dobbiamo essere positivi, quando ripartiremo? Quando è importante per un fruttore, per l'oreca, dire e soprattutto sensibilizzare al consumo del vino locale? Noi siamo riusciti un pochettino a parare il colpo, perché non è stata semplice. Alcune aziende hanno avuto anche un abbassamento del proprio fatturato intorno al 70%. Però siamo riusciti da sempre, proprio perché siamo piccoli e molto spesso confondibili con altre realtà, a creare una cosa unica, che è quello dell'export al di fuori del territorio europeo. Noi vendiamo più il nostro vino fuori dell'Unione Europea che in questa zona. Nemo, profeta in Badia, anche per il vino? Purtroppo è una questione anche legata a questa necessità di differenziarsi. Però, se mi lasci dire una cosa importante, questo territorio in cui siete oggi è unico. Ma non lo dico io, lo dicono tutti i dati statistici, diciamo, pedologici e climatici. Noi siamo a una media, in questo punto esatto, siamo a 350 metri sul livello del mare. Siamo in mezzo ad Adriatico e Ionio, siamo in una zona ventosa, c'è una roccia cosiddetta carsica che abbassa la fertilità, quindi non ci sono tante produzioni per ettaro, ma migliora la qualità. I francesi hanno definito con una sola parola tutto questo insieme di fattori, che è quella di terroir. Non c'è un'altra zona simile in Puglia e i nostri vini hanno le caratteristiche che deriva dal territorio di produzione. Quindi, non sei magari così esperto, però se vuoi possiamo andare a cena insieme, ti posso far capire nettamente perché è facile riconoscere il primitivo che viene fatto a Gio del Colle da quello che viene fatto in altre zone di Puglia. Allora, io a cena vengo perché non potrei mai rifiutare un invito, ma da cosa ce ne accorgiamo? Innanzitutto le caratteristiche di una forte componente alcolica, che è comune anche ad altri, ma una forte bevibilità. Il vino ha una cosiddetta tecnica spalla acida, che permette comunque di non avere queste forti alcolicità percepite in bocca ed è facile anche alla beva. Ed è più elegante, più strutturato, forse con un termine un po' più tecnico, più minerale. Una curiosità, direttore. Ci sono dei giovani anche fra i consorziati, vero? Quindi è comunque un'attività che sta facendo presa anche sulle giovani leve, sulle giovani generazioni. Noi oggi abbiamo fra le 25 cantine una decina di cui proprietari medi hanno un'età inferiore ai 40 anni. Molto è derivato dal fatto che c'è un ritorno, quindi la voglia di mantenere la bottiglia e la tradizione è una componente familiare. La voglia di affrontare nuovi mercati è legata anche al fatto che alcuni ragazzi sono partiti proprio da zero perché hanno avuto, e il consorzio serve a quello, gli consigli e l'aiuto degli altri produttori storici. Perché qui c'è una bella cosa, forse unica. Ci si parla sempre. Qui non ci sono nemici. Perché siamo piccoli, quindi non abbiamo bisogno di essere nemici. C'è un lavoro di squadra. E allora dobbiamo fare una cosa. Noi veniamo a cena, però per gli amici della tua tv dobbiamo far vedere cosa si mangia nel territorio e cosa si beve. E sta per arrivare qui il presidente della Federazione Italiana Cuochi Puglia e il delegato AIS Puglia. Grazie presidente. Io devo dire una cosa, il vino non lo può riportare perché noi dobbiamo constatare che è veramente diverso dall'altro e quindi resta qui. Ottimo. Però noi la lasciamo con un piccolo presente. Eccola qui, la nostra maglietta. Grazie. Che vale giusto 400 bottiglie, però noi ci raccontiamo delle 25. Ve le spediremo. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi.